il narcisista come persona sola sapete l'abbraccio può esprimere l'intensità di un sentimento la sua profondità la profondità di un'emozione perciò è un'esperienza difficile per il narcisista che è più abituato ad usare le parole piuttosto che il contatto fisico infatti con le parole il narcisista può facilmente mentire mentre nel momento in cui ci troviamo stretti tra le braccia di una persona non è più possibile mentire non è facile mentire perché la nostra verità fiora con prepotenza attendendo una reazione da parte dell'altro l'abbraccio richiede una reazione e l'abbraccio del narcisista risulta meccanico risulta muscolare un po come la sessualità quindi appare grottesco caricaturale è come se l'abbraccio del narcisista fosse un preludio alla separazione quindi è un abbraccio struggente ma è privo di emozione senza affetto c'è molta tecnica nell'abbraccio del narcisista però è un abbraccio che risulta vuoto spento senza vita non comunica amore e l'amore è il punto di arrivo del percorso di individuazione il famoso atteggiamento oblativo di cui ci ha parlato freud cioè la capacità di amare della persona questo sarebbe sinonimo di salute mentale e purtroppo il narcisista non può arrivare a questo livello perché ha paura del coinvolgimento affettivo e risulta una persona fondamentalmente sola molti altri video come questo nel mio canale youtube roberto ruga psicoterapeuta inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata per richiedere una consulenza dovete scrivere un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473 inoltre vi informo che ho scritto quattro libri che si trovano solo su amazon buona giornata